È andato bene sia il vertice europeo in se stesso, che ha preso atto di quelle che sono nei città non italiane ma europee, a cominciare dal problema dell'immigrazione, dell'intervento che l'Europa deve fare, necessariamente l'Europa nella sponda sud del Mediterraneo, a cominciare dalla Tunisia, che rischia di esplodere, sia per quanto riguarda le tematiche di politica energetica e industriale e io credo che sia andata bene, per quello che posso ovviamente comprendere da qui da Firenze, anche il confronto tra il Presidente francese e il nostro Pemer Giorgia Meloni.